Ciao ragazze, mamma mia, mi sembra, non lo so che cosa, ho fatto tre volte questo video, vi giuro, una volta si leggeva l'indirizzo e non me ne ero accorta, un'altra volta si spento il cellulare mentre lo facevo, mi dispiace che ora, comunque, mi dispiace che non vede lo spacchettamento dei pacchettini, mi è arrivata stamattina una busta a sorpresa di Antonella, Ciao tesoro, un bacio, grazie, scusa se non vedi ora lo spacchettamento, è la terza volta che giro il video, niente, non me lo vogliono far fare questo video, non me l'aspettavo proprio questo pacchettino, ora vi faccio vedere tutte le cose che mi ha mandato Antonella, Allora, il suo canale è MyBlondi66, vi metto il nome del canale nell'info box, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché a me piacciono tantissimo i suoi video, vi faccio vedere che cosa mi ha mandato, allora, sperando che la terza volta ci riesco, Allora, qua sono tutte le carte, mannaggia, che io ho già spacchettato, mannaggia, allora, poi questa è la letterina, allora, cominciamo con il pacchetto più grande, e c'era questa crema della Cienna, infatti devo dire, forse secondo me lo sa che mi piace la Cienna, infatti a me me le manda spesso Nadia queste cose della Cienna, perché a Napoli io non trovo nessuno che vende i prodotti della Cienna, e questa è una crema nutriente per la pelle, per il corpo e per il viso, Madonna, che peccato però, poi mi ha mandato, allora, materiale creativo, questi cuoricini, che devo fare degli orecchini sicuramente, Poi, questa pietra brunzo, con quest'altra che stava dentro un pacchettino, poi, questa che è una pietra fredda, Allora, io le pietre le so vedere, questa è una pietra fredda, questa è bella, questa è bella a incastonare alle imbroderi, perché è quadrata, Io non la, allora, incastonare senza il feltro da sotto, cioè, così, è un po' difficile farla quadrata, Invece con le imbroderi è più facile, poi, quest'altra pietra qui, che diventa di un sacco di colori, bella, Poi mi ha mandato queste qui, tipo vintage, belle, a me mi piace un sacco il vintage, Poi mi ha mandato, queste farfalline verdi, belle, che sai, sicuramente sai che il verde è il mio colore preferito, Perché se no non avevo tutte queste cose verdi, queste sono troppo carine, belle, non ce l'ho nemmeno, Perché io di solito non compro quelle così piccole, e queste sono belle per fare i braccialetti, tipo il Tiffany, Come mi piacciono queste qua, queste mi piacciono un sacco, sono una specie di chip, Perché però sono più grandi, queste servono per fare gli alberi della vita, però queste no, perché sono più grandi, Allora, ora sta squillando il telefonino, stanno messaggiando, evviva! Allora, queste qua sono bellissime, queste sembrano le perle di occhio di tigre, Qua devo fare un braccialetto, che poi vi faccio vedere, lo devo fare troppo bello, anche perché non ce l'ho, E questa è pietra frida, infatti è pietra frida, poi, queste qui sono troppo belle, perché di questa grandezza lilla, Le perle non le tengo, io adoro le perle, mamma mia, tutti i tipi di perle, E devo capire che cosa devo fare ora con queste qua, Poi, mi ha mandato questa farfallina, bella, questa farfallina, E poi, una sua creazione, che stava qua dentro, Che bella, grazie, non mi aspettavo che mi... Ma non dovevi però mandarmi il ricambio, a me mi fa piacere, Tu già che mi segui, per me, altro che il regalo, Allora, e poi questo braccialetto, guardate com'è brava, Allora, soprattutto a chi piace il wire, per esempio, io sono negata, Mi sono, per fare delle cose con il wire, mi sono uccisa a due diti, No, non sono proprio portata per questo genere qua, Non è per me, Guardate com'è sono belli, C'è, infatti è tutto martellato, E' brava, A me mi piace un sacco, infatti, bello, me lo metto pure, Guardate com'è brava, Quindi, E poi, Mi ha mandato, Una marea di campioncini, Allora, questo qua, Della Ivoro Shea, Questo, E' dell'Erboraio, Crema viso per pelle impure, Poi, questo è della Vichy, Quest'altro, E' un'anticellulite della Collistar, Questa è una crema smagliature, Poi, Questo è un siro della Lancome, Questo, Natural's Arga, Ah, una crema antistress, Questa è della Playsport, Poi, Quest'altro è un profumo, Questo, E' Dermal Sol, E' un, Per il sole, Questo, E' un siro riparatore dell'Arga, Della Natural's Arga, Questo è un fondotinta della Sephora, Campioncini, Due con fondotinta della Sephora, E questi invece, Sono anticelluliti, Della Collistar, Questo, Bello, E' questo, E' guardate quante cose, Mamma mia, Ho fatto tre volte il video, E poi, La cosa più bella, Che vi faccio dire, Guardate com'è bella, Che mi ha scritto, Ti auguro, Buon Natale, Poi si apre, Aiuto, Apriti, Mamma mia, Non si apre, Aspettate, Non mi vogliono far fare questo video, E' suona, Oddio, Non suona, Ecco qua, In diretta, Non suona, Bellissimo, Suona, Bello, E quindi, L'ho fatto tre volte, Scusami, De solo, Se non hai, Doste lo spacchettamento, Comunque, Ragazze, Vi fate, Tanto felice, Se vi iscrivete, Anche al suo canale, Vi metto, Come si chiama, Il link giù, Mai, Blondi, 66, Anche, Per chi fa, Delle cose, Spettacolari, Con il wire, Troppo brava, Anzi, E' lei, Che mi deve, Insegnare a me, Il wire, Vi mando un bacio, Grazie, Antonella, Sei troppo, Troppo gentile, Ti voglio un mondo di bene, Un bacio grande, Ragazze, Vi saluto, Al prossimo video,